Gela si mobilita per dare il proprio contributo a seguito dello spaventoso terremoto che si è verificato nel centro Italia con morti, devastazioni, lutti. La FIDAS ADAS si unisce all'appello lanciato dalla FIDAS nazionale in merito alla programmazione della donazione del sangue. Il centro nazionale sangue fin da ieri mattina ha attivato il piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze per far fronte alle eventuali necessità trasfusionali dei feriti nelle province interessate. Al fine di avere un monitoraggio costante del fabbisogno locale di sangue e intraprendere le necessarie azioni, le strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali delle regioni interessate sono in collegamento diretto con il centro e con le associazioni locali dei donatori volontari di sangue. Una scorta di sangue nazionale è stata messa a disposizione dalle regioni Lazio, Marche, Abruzzo e numerosi suoni volontari che si sono recati a donare rispondendo agli appelli diramati dai media e dai social. Per questo motivo il centro nazionale sangue e le quattro associazioni di volontari italiani del sangue FIDA, SAVIS, Croce Rossa Italiana, Fratres invitano i donatori su tutto il territorio nazionale a programmare la propria donazione contattando l'associazione o il servizio trasfusionale di riferimento in modo da prevenire sia eccedenze sia carenze di emocomponenti. L'attività dell'unità di raccolta di via degli Appennini numero 5 a Gela proseguirà regolarmente per quanti volessero manifestare la propria solidarietà nei giorni previsti, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica mattina. Per qualsiasi informazione si può chiamare il numero di telefono 0933 82 55 51 oppure il numero 338 23 96 225. Si mobilita anche la Procivis di Gela a partire da domani dalle 15 alle 20 sarà attivata presso la sede operativa di via Ossidiana 23 una raccolta di beni di prima necessità, farmaci da banco, lenzuola, coperte, cuscini e biancheria intima. Così come già effettuata in occasione del sisma in Abruzzo, la Procivis di Gela predisporrà un mezzo per portare generi alimentari nelle zone colpite dal terremoto. Per informazioni si possono contattare i numeri di telefono 0933 93 83 12 oppure 334 98 735 88.